La notizia di cui ci raccontava che sta seguendo oggi Elena Testi sotto i palazzi, la sintesi è anche sul sito del Corriere della Sera, M5S, Fico a Di Maio, siamo arrabbiati e delusi, il portavoce del ministro, i portavoce portano anche la loro stessa voce alle volte, noi stanchi degli attacchi, questa è la sintesi della giornata, però poi le notizie arrivano mano a mano che Tagadà prosegue il suo cammino nel pomeriggio, quindi Ucraina, riunione, Movimento 5 Stelle, interlocutoria, si lavora un testo di maggioranza, questa notizia in qualche modo fa capire che comunque un accordo al momento su una mozione di maggioranza, su una risoluzione di maggioranza si potrebbe trovare, non si dovrebbe arrivare Alessio allo scontro tra risoluzioni diverse, quello si segnale di crisi profondissime. Facciamo un passo indietro perché Luca prima presentando la parte politica della nostra trasmissione ha fatto riferimento Alessandro alla scissione, alla possibilità di scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, tant'è che Luigi Di Maio viene più o meno ufficialmente a viso aperto paragonato a Matteo Renzi addirittura, impensabile soltanto qualche mese fa. Cioè chi dice potrebbe fare un partito con Matteo Renzi addirittura, perché poi può succedere di tutto. Al netto della tua tristezza per non aver portato Nazareno Renzoni in trasmissione e nelle trasmissioni in questo periodo, perché avresti avuto tantissimo materiale, tu credi all'ipotesi di un partito di Luigi Di Maio e quale può essere il momento di cucitura, di ritessitura all'interno del Movimento 5 Stelle, stanti le dichiarazioni che Luca e Elena ci hanno riassunto poco fa? Nell'ordine, io do per scontato che ci sarà una scissione, resta solo da capire come si consumerà l'ultimo atto, se con un che fai mi cacci, diciamo come... Finiano, finiano a memoria. Esatto, oppure con un sai che c'è me ne vado, diciamo, ecco, ma lo diamo per scontato. Poi non andrà a Correnzi, poi si vedrà dove andare, diciamo, ma mi pare che quella riscenda si sia consumata. Quello che sta accadendo è una tragica media, diciamo, solo in Italia, mentre il ministro degli esteri è seduto in un tavolo internazionale, il presidente della Camera lo attacca per questioni di partito, solo in Italia, a guerra in corso, un ministro degli esteri può essere processato dal suo partito che lo ha espresso per ragioni disciplinari e il paradosso è che solo nel Movimento 5 Stelle ci può essere questo cortocircuito, per cui nel momento in cui Di Maio viene processato, i 5 Stelle stanno abbracciando la sua linea e veniamo alla risoluzione di domani, perché si è passati da un no all'innio delle armi, su cui evidentemente si sarebbe tratti rotta di coalizione con il governo, a un teneteci informati. La trattativa di queste ore sulla risoluzione è, diciamo, se il governo come deve informare il Parlamento prima dei vertici di meno delle armi, insomma è, ma senza che ci sia, è già caduta nelle trattative riservate, qui non c'è l'amato pupazzo che facevamo con Santoro che svele retroscena, ma ve li dico con la mia faccia, non c'è già più quella richiesta che era imprescindibile per Conte di un voto parlamentare prima di un nuovo innio delle armi, perché è andato già a sbattere contro un muro chiamato Palazzo Chigi, che ha detto su quello. Ecco, quindi sostanzialmente mentre viene, mentre si sta andando sulla linea di Di Maio, viene processato Di Maio, tu capisci che non c'è più politica, no? Che prepara il tavolo o i tavoli della scissione sulle armi. Sono molto interessato a tutto ciò comunque. Breccia e Reduce da un concerto che se ci dicesse tutto, vabbè, ma non lascio il Red Hot Chili Peppers. Però, professore,